In nome della Chiesa voglio chiedervi perdono per gli scandali che in questi ultimi tempi sono accaduti sia a Roma che in Vaticano. Così Papa Francesco in piazza San Pietro. Bergoglio non ha precisato a quali scandali recenti intendeva fare riferimento nell'udienza generale del mercoledì dedicata ai bambini. Per pronunciare questo mea colpa ha preso spunto dal Vangelo. Vi chiedo perdono. Gesù è realista e dice è inevitabile che vengano scandali, ma guai all'uomo a causa del quale viene lo scandalo. Nessun riferimento al sindaco ha precisato il direttore della sala stampa vaticana. Le parole di Bergoglio sono rivolte agli uomini di Chiesa, anche a livello cittadino, mentre il sindaco è una questione politica, ha spiegato padre Federico Lombardi. Il pontefice ha poi ammonito sulla lealtà nei confronti dei bambini, guai a quelli che tradiscono la fiducia dei bimbi verso gli adulti.